La notte in Ucraina è trascorsa tra le esplosioni a Udese e Mikolaev con l'allarme scattato in sette regioni ucraine. Attacchi con droni arrivati poche ore dopo la decisione di Putin di mettere fine all'accordo sul grano, mediato un anno fa da Ankara. Il presidente turco Erdan si dice fiducioso, ma allarme nel mondo sulle conseguenze umanitarie dello stop alle navi con i cereali ucraini. Unione Europea e Nato condannano, gli Stati Uniti definiscono lo stop russo un atto di crudeltà. L'accordo deve continuare a funzionare anche senza la Russia, secondo Zelensky. Usare il grano come un'arma è un'offesa all'umanità, afferma la premier Meloni, cui va il riconoscimento del segretario generale della Nato Stoltenberg che ha sottolineato il contributo chiave dell'Italia nella Nato. Intanto Mosca accusa il regime terroristico di Kiev per l'attacco al ponte in Crimea, sul quale è ripresa parzialmente la circolazione e parla di partecipazione diretta dei servizi segreti dei politici statunitensi e britannici. Secondo Kiev si è trattato di un'operazione congiunta dei servizi segreti con le forze navali ucraine, lanciata con droni marini, piccole imbarcazioni esplosive senza equipaggio. E mentre la controffensiva ucraina procede a ritmi rallentati, la Russia si prepara a rispondere sul fronte di Kharkiv. Secondo fonti militari di Kiev, Mosca ha radunato 100.000 uomini nell'area settentrionale di Kupiansk, pronti a rompere le difese ucraine. Sul piano diplomatico, in un momento in cui parlano di fatto solo le armi, resta il tentativo del Vaticano di arrivare a una soluzione negoziale. Dopo Kiev e Mosca, l'inviato del Papa Zuppi sarà oggi alla Casa Bianca a Washington per discutere col Presidente Biden della situazione. La Russia si rifiuta di estendere l'accordo sul grano con l'Ucraina, siglato un anno fa con la mediazione della Turchia. Una decisione, sostiene il portavoce del Cremlino, assunta prima dell'attacco ucraino al ponte di Crimea. Ma il prezzo, denuncia il segretario generale delle Nazioni Unite, Gutierrez, sarà pagato da milioni di persone. I due paesi sono i principali granai del mondo e forniscono il 30% di prodotti a livello mondiale. Circa l'80% del grano distribuito dal World Food Programme nel 2023 proveniva proprio dall'Ucraina. Il mancato rinnovo dell'accordo mette a rischio soprattutto la Somalia, dove secondo Save the Children, circa 1,4 milioni di bambini sotto i 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta. 33 milioni di tonnellate di prodotti agricoli dovranno essere spostati via terra verso 45 paesi, innescando un inevitabile aumento dei prezzi, più 20% secondo l'agenzia Reuters. Ma le conseguenze di un mancato accordo non saranno solo a danno dei paesi a basso reddito. Le decisioni della Russia vanno a colpire anche la Spagna, primo importatore in assoluto, seguita dalla Turchia. Al quarto posto l'Italia. Solo nel 2022 nel nostro paese sono arrivate 2 milioni di tonnellate di grano. Usare la materia prima che sfama il mondo come un'arma è un'offesa contro l'umanità, ha commentato la Premier Giorgia Meloni. Mentre Tajani fa sapere di essere a lavoro per trovare una soluzione alternativa, dalla Casa Bianca il segretario di Stato Blinken parla di decisione inconcepibile. La guerra illegale della Russia contro l'Ucraina continua a danneggiare milioni di persone vulnerabili in tutto il mondo, scrive in un tweet il segretario generale della Nato Stoltenberg. L'unico a mostrare ottimismo per una soluzione nonostante le parole di Putin è il leader Turko Erdogan che ha fatto sapere che parlerà di questa importante questione con il presidente russo. Il lavoro diplomatico del Vaticano per la pace in Ucraina passa attraverso il viaggio a Washington del Cardinale Zuppi che sarà ricevuto in giornata dal presidente americano Biden. Alla Casa Bianca l'inviato di Papa Francesco affronterà in particolare dossier di carattere umanitario. Nel giorno in cui l'intera comunità internazionale ragiona sulle conseguenze dell'attacco ucraino contro il ponte di Crimea e dello stop russo all'accordo sul passaggio sicuro del grano nel Mar Nero. I due eventi sono strettamente legati nonostante le smentite del Cremlino. Nella notte le forze armate russe sono tornate a colpire la regione di Odessa, che è centrale per l'accordo sul grano. La contraerea ha battuto sei missili e 21 droni, ma le autorità locali hanno comunque denunciato danni al terminal dei cereali nel porto della città. Da Mosca il Ministero della Difesa ha parlato apertamente di rappresaglia per il raid contro il ponte. Il portavoce del Cremlino ha messo in guardia di fronte a qualsiasi tentativo di portare avanti il trasporto del grano nel Mar Nero senza coinvolgere la Russia. Ci sono rischi, ha detto, che occorre considerare, dato che nella zona si svolgono operazioni militari. Possiamo sostituire gratuitamente le forniture ucraine all'Africa. Per le Nazioni Unite il prezzo di questa crisi sarà pagato da milioni di persone. Secondo Oxfam, nell'ultimo anno l'80% del grano ucraino passato attraverso il Mar Nero è finito a paesi ricchi, soltanto il 3% a quelli più poveri. Una decisione scellerata, quello di bloccare l'accordo sul grano, così l'ha definita il Vice Premier Tajani, nonché Ministro degli Esteri. Intanto sono molto preoccupati anche gli agricoltori italiani, perché l'aumento dei prezzi si unisce anche ai cambiamenti climatici. Il blocco dell'export del grano ucraino e il cambiamento climatico rendono l'Assemblea Nazionale della Coldiretti a dir poco infuocata, perché le temperature eccezionali tolgono il sonno a milioni di agricoltori italiani. I danni superano i 6 miliardi con il crollo della produzione dell'ortofrutta e il conseguente aumento dei prezzi. Il Ministro dell'Agricoltura manda un messaggio. Il settore è strategico, ma al momento è molto difficile. Allevatori, pescatori e agricoltori, che dal nostro punto di vista sono importanti dal punto di vista economico, da quello sociale, da quello culturale, ma anche per il valore ambientale che rappresentano e garantiscono. Intanto la decisione di Putin, che rompe l'accordo sull'esportazione del grano ucraino, ha scatenato la speculazione internazionale. Nell'ultimo anno il patto con la Russia aveva permesso di mettere sui mercati 32 miliardi di tonnellate di cereali, a rischio la sopravvivenza di milioni di persone che hanno bisogno di questo grano per rimanere in vita. È una scelta scelerata che ci preoccupa molto, perché innanzitutto a pagare il prezzo di questa decisione di Mosca sono milioni di persone che vivono in una condizione di povertà. Di fronte a tutto questo però è evidente il dramma che si sta vivendo, soprattutto in alcuni continenti come quello africano. Pensando ai bambini e ai ragazzi, laddove dovesse mancare il grano e i cereali, ovviamente la situazione sarà particolarmente complessa. Dall'Afghanistan o gli Yemen, alcuni dei paesi più poveri del mondo, devastati dalla siccità, attendono risposte. Se non arriveranno le migrazioni si moltiplicheranno con le conseguenze che ogni giorno la cronaca ci racconta. Risponderemo all'attacco terroristico del regime di Kiev, premette in serata Putin, che ha visto colpito per la seconda volta in pochi mesi e danneggiato il ponte Tilkerk, fiora l'occhiera del Cremlino, da lui stesso inaugurato. La risposta è arrivata poche ore dopo, con sei missili balistici e ben 36 droni, tutti diretti contro i principali porti del Mar Nero, Odessa, Mikolaev, da stamane già costretti alla inattività, dopo che Mosca si è rifiutata di prorogare l'accordo sul grano. Non ci sono state vittime, ma i detriti degli ordigni abbattuti dalla contraera ucraina hanno danneggiato abitazioni private e causato incendi in alcune infrastrutture. A Zaporizia è morta una donna. Il Cremlino è convinto che l'attentato contro il ponte, da stamane parzialmente riaperto al traffico su una sola corsia, sia stato organizzato grazie al fondamentale contributo dei britannici. Da qui i media russi si sono spiti a dichiarare il Tower Bridge di Londra come obiettivo militare legittimo. La controffensiva ucraina non sta andando velocemente come si pensava, ha detto John Kirby del Consiglio di Sicurezza americano. È dura, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. I russi stanno inoltre rinforzando le proprie linee difensive sul fronte est. Kiev parla di una forza imponente, composta da 100.000 uomini, 900 carri armati, 550 sistemi di artiglieria. Sul Mar Nero si contano una ventina di nuove navi di Mosca, mentre si rafforza la cooperazione militare russo-cinese con l'avvio stamane nel Mar del Giappone di manovre navali congiunte fra i due paesi. Dopo Kiev e Mosca la missione dell'inviato del Papa, Cardinale Zuppi, fa tappa a Washington, oggi il suo incontro con Biden. Un'offesa all'umanità, la fame come arma, una mossa crudele, cinica e immorale, di cui milioni di persone pagheranno il prezzo. È un coro unanime di sgomento internazionale, da Meloni a Biden, dall'Unione Europea all'ONU passando per la ferma condanna della Nato. La decisione della Russia di interrompere l'accordo sull'export del grano ucraino, faticosamente raggiunto un anno fa grazie alla mediazione della Turchia e delle Nazioni Unite, ha gelato l'Occidente che parla di un passo irresponsabile e pericoloso, perché mette in pericolo le scorte globali e rischia soprattutto di infiammare i prezzi e far esplodere l'insicurezza alimentare in Africa e nei paesi più deboli. Mosca smorza i toni e annuncia di essere pronta a fornire gratuitamente il grano alle nazioni più povere, ma Volodymyr Zelensky ribadisce che l'intesa sul grano può e deve continuare a funzionare in sicurezza, parole che si uniscono al pressing internazionale su Vladimir Putin, anche se, secondo Kiev, il bombardamento notturno proprio sul porto di Odessa è una prova che Mosca vuole fermare tutto, mettendo così in pericolo la vita di centinaia di milioni di persone nel mondo che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine. Kiev, infatti, è uno dei principali produttori ed esportatori globali di grano, mais e semi di girasole. Solo nell'ultimo anno, in pieno conflitto, sono stati trasportati attraverso il Mar Nero quasi 33 miliardi di tonnellate di cereali, grazie, naturalmente, all'accordo che aveva l'obbligo di rinnovo ogni 90 giorni. Ad ogni scadenza, Putin ha sempre minacciato di ritirarsi, ma non questa volta, anche se in queste ore c'è un contatto tra i ministri degli esteri di Russia e Turchia. Milioni di persone pagheranno il prezzo per l'uscita di Mosca dall'accordo. La gravità della mossa di Mosca è nelle parole del segretario dell'ONU Guterres, ma è tutta la comunità internazionale a puntare il dito contro la decisione del Cremlino. Un atto inconcepibile, lo ha definito il segretario di Stato americano Blinken, ancora più duro il segretario della NATO Stoltenberg, la Russia continua a danneggiare i vulnerabili. Che l'accordo continui, anche senza Mosca, invece, chiesto Zelensky. Il Cremlino replica, sarebbe molto pericoloso, perché Chiepus è corridoi del grano nel Mar Nero, anche per scopi militari. La mossa di Mosca, dunque, allontana le possibilità di un accordo per arrivare ad un cessato il fuoco, così come l'attacco al ponte, il secondo dopo quello dello scorso ottobre, che collega la Crimea alla Russia, condotto dalle forze speciali ucraine. Due le vittime, una coppia che stava transitando in auto insieme alla figlia quattordicenne, che è rimasta ferita. Stamattina, intanto, la circolazione automobilistica è stata parzialmente ripristinata, per ora in una sola direzione. La risposta di Putin non si è fatta attendere. Almeno sei missili e 36 droni sono stati lanciati su Odessa e Mikolaev, due dei principali porti che permettono l'accesso dell'Ucraina al Mar Nero. In questa regione ci sono i termini al Marittimi che hanno permesso, in un anno, di esportare oltre 32 milioni di tonnellate di grano ucraine. Il Ministero della Difesa di Mosca ha detto che tutti gli obiettivi sono stati colpiti, distrutti i depositi che fornivano carburante alle forze armate ucraine. Il Cremlino ha ordinato anche di ammassare più di 100.000 uomini nella zona di Liman-Pkupianska, città riconquistate dagli ucraine a settembre dello scorso anno. Ma anche Mosca deve difendersi. Le forze russe hanno respinto ieri sera un massiccio attacco ucraino contro la Crimea che ha coinvolto 28 droni. Gli occhi della comunità internazionale, intanto, sono puntati sulla missione del Cardinale Matteo Zuppi. Il Presidente della CEI è stato inviato dal Papa a Washington, dove oggi sarà ricevuto dal Presidente Joe Biden. L'iniziativa, fa sapere la Santa Sede, si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario. Dobbiamo già cristiani aiutarci per capire che cosa fanno.